ciao ragazzi sono il suo video di un nuovo video di youtube oggi ragazzi giocheremo a stumble guys intanto ragazzi vi invito a descrivervi al canale se volete altri video ragazzi come vedete ho 1015 gemme 23 gemme cioè 1015 gettoni 23 gemme lo stumble pass quello di sopra premium però la sfiga vuole che ho lo stumble pass però non ho le gemme abbastanza per gli scuoterle dato che ne ho 23 e ne servono 30 quindi ragazzi intanto facciamo qualche nuova partita intanto ragazzi vi vorrei svegliare la mia fortuna vedete la skin speciale che ho bellissima no? questa lo sapete come l'ho avuta mia mamma praticamente gli avevo detto di andare sulla skin speciale e di fare un giro e gli avevo detto a mia mamma di fare un giro e lei ha trovato la speciale non ci credo ragazzi lei aveva trovato la speciale io non vi veniva a crederci intanto ragazzi c'è una bella portosa allora vediamo che mappa ci uscirà intanto ragazzi io c'ho il pugno e la banana quindi ragazzi dove ci sarebbe è molto complicato per farlo dato che io c'ho due mod speciali quindi ragazzi perfetti la banana io l'amo quando ci sono tantissime persone nello stesso punto così io le la tiro e così tutti muo nooo in questo caso sono morto io vabbè intanto mi sono salvato io gli ho tirato un bel pugno l'azzo beh però ma quanto è bella la skin speciale ragazzi ah 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 gli ho tirato un pugno ah 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 do do ok ragazzi intanto ragazzi lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale vi invito a lasciare un bellissimo commento io sto volendo un altro video di ragazzi parlo così perché è così certo allora ragazzi io c'ho questa boppa da calcio che per me è la boppa più brutta del mondo ti prego ti prego di più che faccio gol si ancora messi ancora messi ancora messi ancora messi ancora messi prendi la palla ancora messi ancora messi la mattina sull'aria nooo ancora messi ancora messi c'è nessi iscrivetevi al canale donna roma donna roma sbatte il rigore donna roma vai 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 donna roma donna roma cristiano ronaldo cristiano ronaldo scesni la parasha allora ragazzi ancoramese batte il rigore ancoramese e mi è lagato no è perché ancoramese fa schifo quindi a son borghese non gli piaceva ancoramese cristiano ronaldo allora vediamo ragazzi che mappa ci uscirà lo sapete la mappa che non mi esce da tantissimo tempo quella la mappa quella lì mi ricordo vabbè ragazze uscite a spingo round 321 dobbiamo correre se no ce la ce la prendono e ce la tirare pugno sì però sempre qua vado un power jump punch sì sì lo tiro al nullo come dice si chiama bello figo dice io sono nato da nulo fa troppo ridere ma fa bellissimi canzoni come si chiama non mi sono dimenticato bello figo ecco fa troppo ridere le sue canzoni andiamo a sconto no 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 lo saltare di là ragazzi no 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 me qualifico Cristiano Ronaldo Gavi io sono Gavi Gavi fa fa lo Gavi fa fa lo Gavi fa go Intanto ragazzi Per che ore sono le 8 07 0 Space Race Allora che posizione Sono un pro player Questa mappa Citto Si è cittone Altro che Ancarmese Sì non è giusto Porco Dullo Oh Push Fammi passare Si c'è Se c'avevo Ma da dove mi fa spawnare Ah ragazzi Vi devo Vabbè tanto non mi qualifico Non mi qualifico Vabbè vi mostro Guardate E mi sono bruciato piedino Mi sono bruciato piedino Vabbè ragazzi facciamo una nuova partita Vabbè ragazzi facciamo una nuova partita Nuova partita veloce velocemente Ma quanto è bella la skin speciale Voglio Bellissimo Tante push 3 2 1 Perfetto Uscita Pants Splash Corri verso l'arrivo Io ho una fra le skin speciali più belle Corri 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 in teoria mi qualifico teoria poi in pratica è sempre una opinione all'u e però sentite ragazzi io la faccio normalmente e però no vabbè ci vediamo in finale ragazzi io non riesco ad arrivare in finale l'ho fatto tipo 6 partite vabbè riscontriamo le gemme e i gettoni 3-2-1 push e abbiamo preso lo stordi basta quindi prendiamo le gemme stordi e giro fortunato non mi chiedete perché ci sono le gemme perché ci sarà stato un bug ma vi questo sarà una che non ce l'ho cosa è una doppia vabbè classico intanto ragazzi ci abbiamo 117 gemme ci mettiamo il nuovo palletto dov'è da una lanza allora lo mettiamo al posto di questo perfetto intanto ragazzi ci accetto tre amici forza Ciro questi tutti questi vi mostro tutti i miei amici ecco qua sono finiti e questi sono quelli quelli che quelli che ho giocato insieme a loro intanto ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao noi ci vediamo al prossimo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale ciao lasciate un bel commento che io vi metto il cuoricino